Di noi è importante perché ci siamo chiariti da alcuni aspetti, alcuni punti, dal discorso dei centri di costo che è una cosa che se ne parlava da tempo per cercare di risolvere il problema degli operatori alto e quelli della tempo, per pagare gli stipendi, i 5 mesi non prendono gli stipendi e poi io mi accingo a fare una 191, cosa che ha già fatto il Comune di Partinico e penso che faranno anche altri comune tranne Terrasini che magari ha risolto diversamente e successivamente ci hanno altre riunioni per quanto riguarda il discorso della differenziata che abbiamo avuto nota dalla Corte dei Conti e il quale diffida i singoli comuni ma tutti assieme, tutto lato Palermo 1 quindi una situazione abbastanza delicata che bisogna affrontarla e rispondere tutti unitamente a quella che è stata la gestioneato per quanto riguarda la differenziata.